Joseph Mone Channel presenta, Si Gentile È il potere di far nascere sorrisi. È il potere di far sentire accolti ed essere accolti. È il potere della gratitudine, esercitarla e donarla. È il potere di credere che si possa essere buoni, che la bontà possa vincere. Che il modo giusto di fare le cose possa funzionare. Ed è il potere, grandissimo, luminoso, di prenderci cura di noi stessi e della nostra vita. È un dono del tutto sottovalutato, spesso scambiato con la debolezza, con l'ingenuità. E questo è un errore. C'è molta più forza in un sorriso e in parole amichevoli e attente di quanta ce ne sarà mai nella violenza, nell'astio. Ed esercitare ogni giorno la gentilezza in un mondo che l'ha dimenticata richiede un gran coraggio. Sii gentile e abbi coraggio. Grazie.